5 secondi! il nemico è in arrivo nell'aria capos! arriverò di smaccare il colo! è l'unico di la destra, vettorna di campo Eeeh, mi dobbiamo chiedermi a far male l'ho qua. Figgio di bottana, miseria. Soldato nemico in arrivo. Suovi nemico nel settore. Nemico, ho richiesto un attacco aereo. Uovi o stile attivo. Ottima uccisione. Marco il resto della squadra sulla mappa tattica. Buona cassa. Uovi nemico nel settore. Uovi o stile in sorbono. Uovi o stile attivo. Uovi o stile attivo. Sta arrivando un nemico. Attenzione in alto. Uovi nemico nel settore. Lucha. Uovi nemico. Uf. Un avvio stile attivo Un avvio stile insorbuno Un avvio stile attivo 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 attivo Un avvio stile attivo attivo Un avvio stile attivo 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 Un avvio stile attivo attivo Denise Un avvio stile attivo attivo sa моя Grazie a tutti 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 Grazie a tutti